Ciao a tutti, sono Sharon Panello, sono consigliera comunale del comune di Pizzo Calabro, un comune in provincia di Milbo Valenze di 9.300 abitanti. Forzam 7, il Forzam è un'esperienza come è stata, fin dall'inizio continuerà ad esserlo, che consiglio di fare a tutti i giovani amministratori. I motivi sono tanti, non solo per il legame e la rete che si ha la possibilità di vivere con giovani amministratori provenienti dalle più variegate comunità e quindi il continuo confronto, ma anche l'approccio che i vali di professori, che di volta in volta abbiamo la possibilità di conoscere e incontrare a Roma, qui in sede, ci accompagnano in questo percorso, un approccio a quella che poi è la nostra vita amministrativa. Una vita amministrativa che sappiamo bene è molto complicata, però attraverso il Forzam stiamo imparando ad avere gli strumenti per poter svolgere al meglio quella che è la nostra missione. Tutti quanti siamo accomunati appunto dall'amore verso le nostre comunità e il continuo confronto con i docenti, con il direttivo dell'Anci e ovviamente con i colleghi, i giovani amministratori non può che essere una crescita non solo professionale, ma anche per tutte le nostre città e i nostri paesi.